La tua terra ti parla con tante voci, le voci che sentivi da bambino e con cui sei cresciuto. Dove vuoi che ti porto? Mare? Montagna? Uare. Le voci dei ricordi belli, dei ricordi dolci, di quelli che pensavi di aver dimenticato. Ricordi che non smettono di chiamarti. A posto così? Grazie. Arrivano subito. Ma lo sai che frutto è questo? Un limone? No, è un bergamotto. È l'oro della Calabria. Da ieri mattina al rilascio dello spot e cortometraggio, chi der si voglia, la scala Richter del Facebook calabrese è andata in tilt. Terremoto a livello distruzione totale, dal Ciuccio al Mare Verde di Tropea alla soppressata col Finocchietto, passando per le Clementine d'Agosto, alla lasciva mano di Raul sulla condiscendente Coscia di Rocio. Niente è stato saltato, rimosso, non commentato. Anche la politica ha voluto dire la sua. Quella della regione poteva essere un'idea intelligente per la promozione dell'immagine della Calabria, ma Muccino, dicono tutti, ha deluso e anche parecchio. Dobbiamo dirlo con chiarezza, non è quella della nostra realtà, non lo è più. Troppi stereotipi, le persone con la coppola, gli asini per strada e poi le lacune narrative gravissime, dichiara senza mezze misure Nicola Irto, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria ed esponente del Partito Democratico. Gli fa eco il sindaco riconfermato di Reggio Calabria, Falco Matà. Dice, ho visto solo adesso lo spot di 8 minuti, oltre due dedicate ai soli titoli di testa e di coda, scritto e diretto da Gabriele Muccino, che narra una Calabria da romanzo Harmony. Una bella storia d'amore fra Rolbova e Roggio Mundos Morales, vissuta in una realtà goffamente artefatta e stereotipata. Muccino ha posto limiti ad una narrazione che è sconfinata. Avrebbe potuto riprendere ogni angolo che è trasuda storia, una qualsiasi eccellenza nel campo dell'artigianato, della tecnologia o delle arti. In 6 minuti si sarebbero potute descrivere tradizioni e modernità. Mari, colline e monti, peculiarità enogastronomiche, da nord a sud della regione, vanno ben oltre le clementine, che sono soltanto una delle nostre infinite ricchezze. E ribatte anche Paolo Parentera, deputato dei 5 Stelle. Il corto di Muccino svilisce la Calabria. E' vergognoso che la regione abbia impegnato quasi 3.300 euro al secondo per un video di 8 minuti, compresi i titoli. Fa anche ecco lo scrittore Mimmo Gangemi. L'ho trovato molto bello nelle immagini, nella voce e nelle parole di sottofondo della musica. E invece non mi è piaciuta la scena con i paesani, mostrati antichi, anche con la coppola. Come non se ne vedono più, o se ancora sì, non ne sono più caratterizzanti. Da decenni. Vale lo stesso per il contadino con l'asino. I primi timidi difensori si fanno avanti nella tarda mattinata di ieri, prendendo poi coraggio e dando del cafone ignorante a chi non aveva apprezzato si tanta arte. Tacita tutti, Muccino. Io non ho fatto un documentario sulla Calabria, non era un reportage sulla Calabria. La mia committenza era quella di Iole Santelli, che mi chiese di fare un viaggio d'amore all'interno della Calabria, per raccontare lo spirito della Calabria, perché la Calabria ha uno spirito che non può raccontare in maniera meticolosa e precisa in un cortometraggio che deve intrattenere ed emozionare. Se intrattieni ed emozioni, riesci anche a creare il desiderio di venire a conoscere ed esplorare questa terra. La finalità ultima per me era quella di far venire voglia di conoscere la Calabria. Io ho fatto questo lavoro pensando agli occhi internazionali. Così completa Muccino. Muccino.